Il grande rally a Como, il trofeo rally a Cicomo e TV che ha visto un grande risultato a fermarsi nella tardo pomeriggio di oggi con la sesta coppa incassata da Fontana, ma parliamo di tutto quanto con Massimo Moscardi, collegato con noi Massimo, buonasera. Sì Davide ci sono, buona serata, veloci come deve essere un rally questo collegamento, il rally è stato vinto appunto da Corrado Fontana, la sua sesta fermazione a Como, al secondo posto un altro comasco Paolo Poro che così ha vinto il trofeo d'asfalto, al terzo il figlio d'arte Alessandro Re. Al mio fianco c'è Corrado Fontana per un commento velocissimo, più che altro la dedica per questa vittoria. Siamo contentissimi, una gara molto tirata, siamo stati fatti fino in fondo con Felice Re, siamo contentissimi perché abbiamo fatto molto bene, abbiamo vinto quasi tutte le prove, quindi alla fine vincere la sesta gara è veramente bellissimo per noi e la dedica è sicuramente per un bambino speciale, Lorenzo, ho avuto l'onore di portare il suo logo sulla mia macchina e sicuramente dalla sua per la fatta da Angelo Custode per tutta la gara. Un grazie a Corrado Fontana, a voi subito la linea. E allora grazie anche a voi.